il cuore vive finché ha qualcosa da amare così come il fuoco avrà qualcosa da bruciare benvenuti al meteo tempo tutto sommato buono sul nostro territorio sarà in genere asciutto anche se a dire il vero il sole non si farà molto vedere vediamo insieme il dettaglio di giovedì 17 dicembre sul veneto in qualche valle prealpine soprattutto in pianura saranno presenti parecchie nubi basse e nebbie in parziale sollevamento durante le ore diurne in montagna cielo parzialmente nuvoloso qui non si escludono delle schiarite al pomeriggio precipitazioni comunque assenti temperature stazionarie minime tra lo 0 e i 4 gradi i valori massimi compresi invece tra i 7 e i 10 gradi all'incirca ci spostiamo ora sul friuli venezia giulia anche qui avremo molte nubi con cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso ma senza fenomeni degni di nota locali rasserenamenti sui rilievi temperature minime tra 2 e 8 gradi massime sui 9 e 12 gradi uno sguardo infine alla situazione del trentino alto adige qui la situazione vedete sarà differente con ampio soleggiamento ovunque solo con qualche foschia mattutina temperature minime intorno allo 0 e 3 gradi massime sui 7 8 gradi all'incirca dal meteo di antenna 3 per ora è tutto grazie per l'attenzione arrivederci al prossimo aggiornamento il talento è scintilla il genio fiamma iscriviti al nostro canale